E niente, o se ci dai una pompa noi l'attacchiamo qua sopra, eh? Sì, qua ho due venti, quindi potrei calare giù se hai una pompa sommersa. E la possiamo far pisciare sopra. Sì, sì, all'esterno. Sì, 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 sì. Io niente un qui un clac de las... E magari? il motocari